Che cos'è stato il cinema per lei? Il cinema... Che figa la rumba, seguimo vasilando Che figa la rumba, io non sei fare il mambo Ma che penchiere, seguimo santo Seguimo, 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 seguimo Questo naturalmente non lo scriva Sono un gentiluomo, è l'unica certezza che ho Lo vuole sapere di che cosa tratterà il mio prossimo film? Grazie Che bellezza, che grande bellezza Campardella Ce l'ha una sigaretta?